Unboxing delle Urbiz, volevo prendere il modello grande, quindi le mixer mi pare che si chiamino però comunque ho deciso di optare per queste qui perché praticamente io le uso molto a scuola e quindi queste qui sono più portatili e comunque sia, sono le mie prime bits quindi ho deciso di non spendere più di tanto il prezzo è di 99€, su Amazon o comunque in altri posti si possono trovare a meno però girano molti fake e quindi state molto attenti fidate solo di Amazon per quanto riguarda l'acquisto di bits allora vediamo la confezione, innanzitutto vi dice qui i gommini comunque vedete qui si dice che grazie a questo disegno qui possiamo capire se sono vere o false questo non lo so io perché non me ne intendo comunque qui troviamo il disegno delle bits comunque queste qui sono davvero fantastiche ma come ovviamente tutte le bits sono molto rinomate insomma vabbè leviamo la pellicola eccole qua, allora cerchiamo di capire come si aprono ecco che è a scorrimento ok qui troviamo il logo lucido delle bits poi qui bisogna tirare c'è una calamita allora qui troviamo le bits, oddio parecchia piccolette ve le immaginiamo un po' più grandi comunque qui troviamo il libretto il libretto con l'adesivo e nient'altro vabbè ok qui tiriamo vedete che qui tutto quanto ben arrotolato dentro troviamo poi questo piccolo portafoglio possiamo dire portafoglino comunque e con dentro questa clip per tenerle alla maglietta poi troviamo invece questo piccolo questa piccola bustina in cui ci sono tutti quanti i gommini di ricambio quindi sono abbastanza accessoriate comunque andiamo a vedere le bits allora ok qui va strappato ok eccole qua sono molto belle ci sono di tutti i colori e sono anche uscite quelle nuove con i colori dell'iPhone quindi vabbè sono compatibili con tutti i prodotti Apple comunque lo potete vedere sul sito e comunque queste qui sono le cuffiette molto belle di design davvero fantastiche cavo piatto in ear ovviamente e io usavo sempre le cuffiette dell'Apple quelle dentro l'iPhone quindi queste qui sono le mie prime cuffiette in ear perché io sinceramente le detestavo comunque questo qui è il control talk comunque noi ci vediamo con la recensione in un prossimo video mettete like al video se vi è piaciuto e iscrivetevi al canale